Un cordiale saluto amici di WeSport, ben trovati al comunale di Campofranco, si gioca nella 25esima giornata del campionato di eccellenza siciliana, recupero tra Nisse e Casteltermini, entrambe reduci da una sconfitta nell'ultimo turno di un campionato, rispettivamente per 2-1 contro la Don Carlo Misilmeri e per 3-1 contro il Mazzara. Vediamo le scelte della compagine nissena per affrontare questa sfida, mister Bognanni si affida al 4-3-3, li volsi in porta, difesa Garofalo, Diop, Conti e Priola, in mediana Brace, Mazzoni e Bisogno. In avanti il tridente con Danca, Reducci e Pardo. Arbita la partita il signore Rosario Zangala della sezione di Palermo, gli assistenti sono bensorte di Trapani e Fardella, anch'esso la sezione di Palermo. Partiamo con il film del primo tempo, subito Nissa con Danca per Pardo, il pallone viene allontanato alla difesa delle Casteltermini con Jeff al dodicesimo e Bisogno invece a trovare perfettamente la corsa di Danca sulla sinistra, il tentativo in diagonale, il salvataggio sulla linea da parte di Noto. Nissa sfortunata in queste prime battute avrebbe già meritato il vantaggio al diciottesimo, calcio di punizione con Conti che viene ostacolato da Noto e non inquadra lo specchio della porta. Al diciannovesimo invece dall'altra parte Cordaro prova a trovare il corridoio giusto per Guadagnoli, Priola però riesce a sventare l'offensiva degli ospiti e libera in calcio d'angolo. Al ventunesimo invece c'è un cambio per Mister Bognanni, fuori Reducci per infortunio al suo posto Rizzi. Al trentaduesimo Pardo lotta sul pallone dalla sinistra, scarica l'indietro per Mazzoni che si coordina col destro, lo spara però altissimo. Al quarantaduesimo occasione per il Castel Termini, cross dalla destra, arriva Rossano, ex conoscenza delle calcio messinese che però manda fuori, arriva invece il gol. Al quarantasettesimo per l'adirizzi che riceve dalla sinistra il cross di Priola, pallegge in aria e poi con un mezzo scavetto batte il portiere 1-0 della Nissa quando il direttore di gara pischia due volte e manda le due formazioni a riposo, meritatamente in vantaggio. Fin qui la formazione di Mister Bognanni, partiamo con la ripresa al quarantasettesimo, lancio illuminante per Danca che brucia in velocità gli avversari e poi col mancino sfiora il 2-0. Al cinquantatelesimo è Pardo che appoggia per abbraccio, lancio ancora su Danca che stoppa, prova a saltare il portiere, riesce a farlo, arriva il secondo salvataggio sulla linea. Stavolta di un difensore delle Castel Termini si salva in qualche modo, la compagine ospite fa altrettanto sul calcio d'angolo conseguente. Alto sopra la traversa, il tentativo da parte di Conti sfiora invece il capitombolo. La formazione è padrone di casa quando Mori Traorè al cinquantacinquesimo, grazie a Livolsi al sessantatresimo invece. Fuori Mazzoni, anche lui ha ciaccato dentro Santoro, settantaduesimo calcio di punizione che viene battuto veloce ancora per Mori Traorè. Favorisce la corsa di Tagliarino, il pallone messo in mezzo per Braili Santiago e però calcia fuori. Poi calcio di punizione deviato in area di rigore, miracolo di Livolsi, arriva ancora lui, Braili Santiago che fa 1-1, tutto da rifare a Campofranco tra Nisse e Castel Termini. Il pareggio che sa di Beffa per la formazione di Mister Bognanni che però reagisce, settantasettesimo punizione di bisogno in area. Tenta la girata di Hop, Avignone alza in calcio d'angolo, esce Danca dentro a bade all'ottantadresimo, all'ottantacinquesimo. Arakiri difensivo da parte dell'autore del gol dell'1-1, Braili Santiago che libera ancora una volta Rizzi, che stavolta ringrazia, appoggia comodamente la sfera in porta. La doppietta di Rizzi vale il 2-1 definitivo a Campofranco perché di lì a poco il direttore di gara fischierà tre volte e manderà le due formazioni definitivamente al riposo. Vince la Nisse per 2-1 sul Castel Termini nel recupero della venticinquesima giornata del campionato di eccellenza nel weekend. Ancora un recupero per la formazione del presidente Gian Musso che stavolta affronterà il Castellammare. Amici di WeSport un cordiale saluto e alla prossima!